Banca Italia all'interno di Karim per fare chiarezza ed indagare in merito le gravi irregolarità riscontrate in conseguenza delle quali, con decreto del 29 settembre 2010, la Cassa di Risparmio di Rimini è stata commissariata. Sconcerte su buglio tra i dipendenti delle singole filiali ed anche tra i clienti e nel tentativo di saperne qualcosa di più ci siamo rivolti ad alcuni di loro. Sentiamo alcune reazioni ed opinioni a caldo dei pochi che, nonostante il delicato momento, si sono resi disponibili al rilascio di qualche dichiarazione. In che modo è stata ricepita la notizia tra di voi, tra i dipendenti? Avete timori, siete preoccupati? No, no, ritengo che tanto la banca è solida, quindi paura non ce l'abbiamo. Quindi secondo voi capiranno i vertici, ma comunque i dipendenti nelle singole filiali resteranno? Ma ritengo di sì, dico non so niente a parte quello che ho letto sui giornali, ma non essendo a contatto con la gente non so neanche come abbia reagito. Quindi internamente non avete avuto ulteriori informazioni tra di voi? No, assolutamente no. Ne avete parlato, vi siete fatti domande? Tra di me ne abbiamo parlato un po', ma... Com'è? Che ambiente c'è? Che mood? Ecco, per esso siamo un po' così, non sappiamo, abbiamo letto i giornali e basta. Preoccupati? No, 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 assolutamente. Fediciosi? Sì, 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 assolutamente. Ma diciamo che c'è un clima di incertezza generale, perché comunque non ci sono notizie da nessuna parte. Quindi non vi hanno informato, non vi è stato comunicato nulla internamente? No, no. Quello che sapete lo sapete dai giornali? Esatto, sì. Quindi tra di voi avete parlato, c'è preoccupazione, incertezza? Certo, sicuramente incertezza. E poi comunque sì, ci è arrivato soltanto un'email interna dicendo che la banca era stata commissariata e poi tutti il resto, insomma, così, chiacchiere di corridoio. Questa vicenda si, come dire, condizioni proprio a livello locale, le singole filiali? Siete preoccupati concretamente per i vostri posti di lavoro? Per i posti di lavoro sinceramente no, perché dicono che comunque, insomma, possiamo stare abbastanza tranquilli. È ovvio che in questi momenti c'è incertezza, perché non essendoci notizie concrete, insomma, tutti ci chiediamo quale sarà più che altro il futuro della banca. Per quanto riguarda i clienti, c'è stata un'affluenza di persone venute magari a chiedere chiarificazioni? Io lavoro in un ufficio interno, per cui oggi c'è stata abbastanza tranquillità. Penso che i colleghi delle filiale abbiano avuto un po' più di problemi, soprattutto a spiegare cose di cui noi stessi non sappiamo cosa dire. Quindi anche i clienti, insomma, si sono rivolti agli sportelli per avere chiarità? Sì, sì, anche se penso che soltanto nei prossimi giorni, insomma, ci sarà questa cosa. Se non ha saputo niente? Conosco quello che ho letto sui giornali e su internet. Lei è tranquillo, preoccupato? Per ora tranquillo. Dal punto di vista patrimoniale la banca sembrerebbe assolutamente solida. Meno queste sono le garanzie che danno e che dice anche Banca Italia nel suo comunicato. Poi aspettiamo gli eventi, le ulteriori verifiche. Per ora sono tranquillo, me lo dice la stessa Banca d'Italia, quindi non mi scompongo per ora. È indipendente della CARIM? Stavamo attenti. Direi non lasciare dichiarazione. Proprio niente.